PEGI 18 Non ci sei stata per due settimane, c'è un casino. Devi pulire casa, fare le lavatrici, cucinare. Lei è Alice, occupati di lei. Compiti, bagno, tutte quelle cazzate. Capito? Certo, Todd. Oggi non vai a scuola? Forse eravamo amiche prima del mio reset. Potremmo esserlo ancora. Non dovresti toccare la mia roba. Mi rende nervoso. Scusami, Todd. Che hai da guardare? Credi forse che sia facile? Forse credi... Che colpa mia se quella troia di tua madre se n'è andata? La stronza mi laccia per un'impiegata del cazzo! Torna qui. Tu resta lì. Non provare a muoverti. Alice! Papà è molto arrabbiato! È tutto finito. Papà non è più arrabbiato. Sai che papà ti ama. La colpa è solo tua! Sta arrivando! Mi bicchierà! Scappa! Va via! O ti romperà come l'ultima volta! Tu hai bisogno di una grande lezione! Tu vieni con me. Ora basta! Voglio che lasci stare Alice. Lei è mia. Ci faccio quello che voglio! Cara! Tornate qui! Attenta, cara! For the players. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info